Suggiata vorrebbe domandarti qualcosa Dusmer, quella forza d'amore che viene, a volte viene La sentiamo proprio e possiamo davvero amare Come mai non riusciamo a tenerla sempre con noi? E Mer dice, bisogna riuscire a tenerla Suggiata, lo penso anch'io, bisognerebbe riuscirci ma non ne siamo capaci Bambina mia, quella forza è qui, di continuo, sempre Qualunque cosa faccia questo corpo che incontri gente o che badi A se stesso o dorma Quella forza è sempre, sempre, sempre qui cosciente Vibrante Ti dico, è possibile Perché è un fatto Solo che bisogna L'ostacolo di solito è che la coscienza fisica nella maggior parte delle persone È molto oscura È fatta soltanto di bisogni, di desideri, delle reazioni più materiali Quel che occorre è risvegliare nelle cellule L'amore per il divino E una volta che le cellule amano il divino Quell'amore dura per sempre Non si muove più, resta sempre lì Ed è anche molto più costante di qualsiasi movimento vitale o mentale È così Mer stringe i pugni Non si muove più Le cellule stanno continuamente così In uno stato d'amore per il divino La cosa notevole nel fisico è che quando il corpo ha imparato una cosa Non la dimentica più Una volta che le cellule hanno imparato il dono di sé Questa offerta al divino Questo bisogno di offrirsi La cosa è imparata Non si muove più E continua 24 ore su 24 Senza fermarsi mai Un giorno dopo l'altro Senza cambiamenti E anche quando c'è qualcosa che non va Un dolore o qualcosa del genere Il primo movimento è questo Offrirlo Darlo Spontaneamente Non per un intervento Della coscienza superiore Viene spontaneamente Viene dalla coscienza che sta nelle cellule Sono il vitale e la mente a fare così Gesti gesto a zig zag Instabili Soprattutto il vitale che si preoccupa di un mucchio di cose Ovviamente mente vitale sono interdipendenti E' l'ego che è il dominio dell'ego che deve essere abolito E' il dominio dell'ego che deve essere abolito E il corpo continua ad andare avanti Continua Non è mica sparito Ha avuto solo un momento difficile Un breve momento Adesso Le cellule Le cellule si chiedono come è possibile continuare a vivere senza questo movimento di adorazione Stanno così Stanno così Gesto di intensa aspirazione In tutto il corpo In tutto Molto interessante Tutte le difficoltà dello sviluppo interiore che abbiamo col vitale e con la mente Il ritorno delle vecchie abitudini e tutto il resto Qui nel corpo basta Non ci sono più